Ragazzi, questa run è meravigliosa, stiamo riuscendo a fare... Questo che... Ah, eh... Queste sono... Io ricordo a sta parte, stronzo, io... Sono due di queste, non tre... Nooo... No, via, via! Cacciato... Ma perché ti vai a ammazzare? E dai, però... Ma che cazzo ne so, ma qua tutto quanto spara come gli pare! I ragnetti sparavano i... I caccotti rossi, quello mo' ha deciso che spara i neutroni! Oh, mi stanno inculando! Vaffanculo, vieni qua mo! Che ti faccio un gerchio di satana! Comunque due di questi, uno sopra l'altro... Eh sì... Il problema è farli, insomma comunque stiamo messi malissimo! Ce la faremo, ce la faremo, perché noi siamo brevi! Ma i cecchi falli venire! Eh... Bello! È troppo... È troppo sgrado, sto cosa! Però non hai sempre lo spazio di farlo, eh! Arco zizzero! Vabbè, buono così, nemmeno! Eh, ho capito, abbiamo perso un cuore! Ah, io apro le cose, tanto che abbiamo... Non so che serve adesso! No, ci mancava retto! Madonna! Adesso si vede tutto male! Mi sento tornare bambino! Madonna! Fallo prima che si... Ah! Oh zizzero! Due di... Due di cuori! It time multiplier! Guarda, abbiamo tanti cuori adesso! No! C'era quello? Occhio, occhio! Ok, occhio! Buono! Non mi piace! Ma succede un burdello! Grande! Non so come tu abbia fatto, ma grande! Non l'ho fatto io! Monstro! No! Monstro 2! Però... Orco zizzero! Ahaha! Dai, cas... No, 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 non mi piace! Non mi piace! Io, Monstro 2, è uno dei... Dei mostri... Madonna! Buono così! Guarda qua! Ragazzi, siamo concentratissimi per... Porca troia! Parliamo! Non mi fregare il cuore! Aspetta che recupero un po'. No, no, vai tranquillo, vai tranquillo! Eh... C'è troppa vita a sto stronzo! Mezzo cuore! Mezzo cuore lì! Ah! Vai! Bella! 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 Non puoi qui! Eh, no! Aspetta, aspetta, non voglio pigliarti il cuore nero! Madonna! Ma che cazzo c'ha? Tutti gli attacchi di sto mondo c'ha! Astidioso! Il mostro 2 è fastidiosissimo! Sei un panda di merda! No! Ma perché? Occhio! Occhio! Quanto cazzo dura sto mostro! Non guardare l'energia, ti dico io! Manca poco comunque! Diciamo, fra un paio di minuti è morto! Oh! Attento! Ok, non guardare dove stai tu! Spara se... Controlla solo se non ti colpisce! Fanno pure un muro! Sì! Bravo! Lì entra, lì entra! Bellissimo! HP Up! Bravo! Bravissimo! Io comunque con tutta sta roba a schermo non capisco più dove sono! Eh, per te è difficile! Vabbè, sei rosa però! Eh, lo so! Ma adesso sono rosa! Tra qualche istante sarò di un altro colore! Non mi abituo! Ok, dai! Ah, ultima, ultima, ultima! Mostra la mamma! Ce la possiamo fare, dai! Ce la possiamo fare! Ragazzi sono 33 minuti di run! Prima avevamo fatto 12 minuti di rospo! Prima aveva fatto un po' schifo, ma comunque ci stiamo difendendo! Il problema della mamma è che la mamma rombo cazza! Ci vorrebbe il papà! Ci vorrebbe il papà! Vabbè, provo! Che cos'è? Ah, lo matto a pesca! Nooo, perché l'ho usato proprio da te! Che culo, che culo, che culo! Questo li facciamo anche sparandoli davanti! Ogni volta che muori lascia qualcosa! Beh, almeno! Quando muoro mi sento meno in colpa! La cosa buona è che sono anche magnetici questi colpi, in qualche maniera! Sono homing? Sì, leggermente! Quanti cazzo ce l'hanno messo! Questi colpi sono... Sono buone e tutto, però sono... Fanno poco danno! Fanno veramente poco danno! Ok! Dovremmo prendere un damage up! Attenzione che ho messo, non è facile che... Buono così! Basta che non si inventano i laser! Oh, cazzo! Ma non la vedo! C'è troppa merda in giro! L'attenzione che devi porre deve essere un attimino maggiore! Non si tratta dell'attenzione maggiore, si tratta dell'inquadratura! L'inquadratura è sempre quella! Ancora si è aperta la porta! Madonna che palle questi! Penso cuore! Allora, voglio provarci una cosa! Ok, mi togli i cuori vuoti anche! Infatti mi ha dato tre... Tre art su, dai? Buono! Allora, zampa di guppy è buono! Sì, è buono! Però quando sei in estrema difficoltà... Ah, io entro! Ah, aspetta, aspetta! Qua dobbiamo... Qua dobbiamo pensarla un attimo! Perché hai mangiato la merda? Ma che... Allora, tu potresti andargli a far danno, però ti si inculano! Appena ti affacci, ti si inculano! Hai capito come funzionano questi? Però potremmo fargli un cerchione... Ma aspetta, aspetta! Inverecondo qua! Aspetta! Fermo! No, no, no! Sì? Gli facciamo, se no, un cerchione inverecondo! Aspetta, aspetta! Bravo, bravo! Non è così! Io credo in te! Mettiamolo una settimana, però! Perché? Fatto! Meglio! Ho risparmiato tanto! Cazzo hai messo una bomba? Sì! Eh, porco! Perché tu vuoi mettere bombe? Sì! E le hai messa lì, con tutte le parti dove potevo... Questo quasi doveva mettere la bomba! Se non ti dà un cazzo di niente! Aaaaaaah! Ma corri, 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 in modo che volendo! Fai un cerchio, fai un cerchio, fai un cerchio! Sta puttana mi ha riportato indietro! Davvero? Può farlo? Mezzo cuore, prende! No, no, stai ingastrato! Bomba! Ah, non ce l'abbiamo, porca troia! Sono quattro mani, no? Uno e due! Porco zizzero! Che scassaminga! Andiamo qui qua! Nooo! Che stanza di merda! Decisamente sì! Fanculo! Sono quelli neri, quelli da fare! Ah, prima della mamma c'è... Fanculo, abbiamo per forza abbatterla quella, cacchio! Dico... Occhio, occhio, questo fa tutto! Mai visto! Fanno i giri, fanno il giro del muro! Sono facili, ma quando si tratta... Potremmo entrare di qui? Ah! Che culo! Eh, questo potrebbe essere una cosa brutta! Madonna, eh! Mo' proprio... Per carità, c'è un esercito con noi, ma non si capisce più un cazzo! Ah, potrei battere una bomba, però... Minchia, quanto è grosso quel coso che puoi fare! Beh, però siamo messi bene! Allora, visto che... Visto che si tratta della mamma, io poi potrei usare praticamente tutti quanti i guppi solo... Ok, dai, ce la possiamo fare! Corri! Mi sa che la mamma non gli fa un cazzo, lo sa cosa! Dici? No! T'ha preso? Sì! Dove t'ha portato? Non so! Aspetta che! Ma t'ha proprio ammazzato! Sì, il cuore nero! No, 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 non lo voglio fortemente! Ok! Allora, le bombe non ci servono! Facchiamo i soldini! Dai, cambiamelo! Dai, cambiamelo! Ok, l'occhio! Ammazza quanta ne sai! Che cos'è l'occhio? Non mi ricordo! Triple shoot! Ott, ma... No! Però, un burdello! La sgraveria, però! No, mo' siamo sgravi! Eh, però vanno molto lenti! Non lo so se... Non lo so se va bene! Cioè... Però, ci permette di sparare un po' più a cazzo del solito! Così guardiamo dove arrivano i colpi dei nemici, capito? Passati! Perché mo' importante è quello! No, alla mamma non si capirà un cazzo! Tu te la ricordi la mamma? Sì, la mamma ti sta attendo a dove vai! Più che a dove spari! E siccome questo spara a cazzo di cane... Non ci apriamo sopra! Piandagli una... Bomba là! Una pipa là! Ah, devo stare al secco al pipa! Ah, ce l'ho letto in cazzo! Peccato! Però aspetta! No, però io lo proverei! Ah, fa anche io ora! Abbiamo finito le bombe! Abbiamo finito le bombe! Ottimo! Vedi qui! Buono! Così, a protezione del cuore... Nero! Ok, mamma mia! Guarda che cazzo di compagnia, disgraziata! Vaffanculo! Allora! Qua bisogna pensare... 42 minuti di Isaac! Io... Eh, ma così! Questa è la run base tanto due! Vabbè, sai che è? Andiamo a fottere sta mamma, anche se questo mi attira! Andiamo a fottere la mamma! Ma non credo che la fottiamo! Allora, io provo... Tu sei sicuro che il... Lazarus Unlocked? Madonna! Allora, io posso mettere ancora un'altra tre cuore, credo! Ce la possiamo fare! Tu! Sei sicuro che il... Pentacolon faccia danno? Però c'ho... C'ho il cuore nero, quindi volendo... Sì, allora, vicino alle porte fa... No, mi fa un cazzo danno! Volendo c'ho il cuore nero, quindi dovrei... Dovrei poterlo stesso... Merda! Mi sembra che la mamma gli fa un male, eh! La porca zoccola! Dai, ci stiamo comportando bene, dai! Non sto capendo un cazzo, vero? Va bene, va bene così! Dai, dai, che lavora buona! Vai, vai, uccida! Tanto! E che cazzo? Non mi morire! Eh, purtroppo... Ottimo! Purtroppo vanno molto lenti i proiettili, quindi... Sì, non puoi scommare! Però non mi morire cazzo così! Eh, non ci posso fare niente! Non capisco dove cazzo sto! Ok, adesso ci capisco un po' di più perché sono grosso! Allora, pensa alla mamma, io levo i cazzetti qua! Madonna a sto sparo quanto è inutile qua! Ok... Qua deve venire la zampa! Bella! Ok! Bella! Poi mi ha finito, abbiamo finito la mamma, però è andata male! Allora, ci abbiamo sbloccato un delirio di Hashim, guarda la destra! Tanta bella roba! Guarda la The Guardian, tutto abbiamo sbloccato! Perché queste sono cose che non appaiono normalmente, se non la batti una mano! Cup of meat! Ma la prossima run, prima di tutte quelle cose in più! Questo è molto molto bello ragazzi! Noi siamo veramente orgogliosi di avervi portato finalmente una run, fino alla fine! E ci vediamo al prossimo episodio, sempre con The Binding of Isaac, o con Dark Souls 3, se riusciamo a connetterci e giocare insieme! Grazie a tutti!